Si immagina la recensione? Questo è un po' più grande, no? E' un po' maggiore. Sui rasti che rasti da in 40-30 ore, secondo quando vuoi muovere, si chiama rivolto vino. C'è invece un cacciviato, un mungi viato, un halverettimento vino. E qui si dice vino senza rivolto. Il più forte è l'aceo. Allora, l'aceo è più tannino. Rimane più tannino il tuo vino. Ci donna più aroma delle rasti, delle cose. Ha un altro sapore. Io mi ricordo che ero piccolo vino. Non riguarda la zuccherina. No, la zuccherina è sempre la stessa, perché non è che il cangio. Io la volavo già. Solo sotto l'aspetto aromatico. Si, è l'aromatico. Ovunque si sviluppa il gas. E' pericoloso. Quando fermenti si sviluppa il gas. E allora, il gas è nocivo. Se lo respiri, poi non lo respiri. Ma se ne sono mortalecchi con il discorso della... Ma non è nocivo, ma te sono nocivo. Ma dovrebbe essere sempre a dirciare. Non vuol dire rivolto. Perché rivolto secondo te si chiama così? Ah, forse perché fa tutto. Rivolto dire già una cosa. Rivolto. Rivolto. Sì, va prestato in modo che si gira. Esatto. Adesso si. Rivolto. Adesso si chiama. Si, si, si. Perché bolle, capisci? Se c'è il venendolo. No, lì c'è una cosa. Comincia a fermentare subito. Piaggio. No, è una cosa... Ok?